La cultura e la formazione sono il carburante del futuro e Campobasso e l'intero Molise ne hanno bisogno per crescere, dunque hanno bisogno dell'università. Ne è convinto il candidato sindaco per il centro-sinistra Antonio Battista che ha voluto illustrare i punti del programma Campobasso-Città Universitaria. Lo ha fatto davanti all'Ateneo con diversi altri candidati che lo sostengono. L'università del Molise è il turbo che farà correre l'economia di questa città, che farà correre la cultura. E quindi staremo molto molto vicino alle esigenze di questa università, agli studenti. Io voglio soltanto ricordare l'economia che gira intorno alla presenza dell'università per Campobasso, i contratti di fitto che vengono realizzati, la ristorazione, tutte quelle attività che sono legate a un mondo giovanile. La nostra volontà, ha spiegato Battista, è quella di essere al fianco dell'università nel garantire sempre migliori servizi agli studenti e al territorio. Noi dovremmo stare molto attenti, dovremmo capire altri servizi che già possiamo offrire. Noi abbiamo la rete wifi, ma dobbiamo garantire nei limiti delle nostre competenze i sussidi per il diritto allo studio. Dovremmo capire se eventi universitari potranno significare per la città di Campobasso ancora sviluppo dell'economia. Servizi per i giovani, sportelli per i giovani e l'attenzione per quanto riguarda la casa per lo studente. Battista ha ribadito il suo pensiero anche sulla scuola e l'istruzione in generale, sulla necessità della presenza degli istituti nei quartieri perché ha dichiarato una scuola che chiude è un arretramento per la società. Ritengo che tutta la filiera della formazione debba essere sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione comunale di centro-sinistra, iniziale dagli asili in Ido che sono stati chiusi, purtroppo dalle scuole che hanno una loro valenza, importanza, non soltanto da un punto di vista formazione sui quartieri fino ad arrivare appunto alle scuole superiore e di nuovo alla università. Staremo molto vicini all'università e agli studenti.